Ciao, io sono Daniele e questo è Car Brewing, la tua birra fatta in macchina. 5 minuti di divagazioni sul tema della birra artigianale e della birra fatta in casa in Italia. Allora, che cosa succede? Stiamo prossimi ad Halloween, quindi che cosa vogliamo fare? Non la vogliamo fare una birra alla zucca? Sembra brutto ragazzi. Allora, per quanto riguarda la birra alla zucca, io effettivamente non ne ho mai fatta una, però effettivamente mi sono andato a leggere sempre delle informazioni in merito. Addirittura c'è un bellissimo articolo di Antonelli, Francesco, Franco Antonelli di Brewing Bed, dove parla proprio della sua esperienza in merito ed è, oltre a raccontare tutta quanta la storia, quindi molto probabilmente le cose che sto dicendo io adesso sono già familiari per chi ha già letto l'articolo, in caso andatevelo a cercare. Ecco, lui fa un po' una storia per quanto riguarda le birre alla zucca. Certo, stiamo parlando comunque di birre che sono state, sono birre stagionali, ovviamente, grazie, che possono fare utilizzo di zucca in fase di ammostamento. Perché dico possono? Perché effettivamente le pumpkin beer, come chiamano in America, sono birre comunque tendenzialmente speziate, che al sapore ricordano quelle che sono molto diffuse in America, appunto, le torte alla zucca. Queste zucche che comunque non sono come quelle che abbiamo noi in Italia, che sono quelle lunghe, sono quelle grosse, quelle da Halloween, tanto per capirci, che effettivamente non hanno molto sapore. E infatti, quello che poi dice pure Antonelli dentro il suo post, è che comunque spesso e volentieri è più l'idea, più il ricordo di una torta alla zucca piuttosto che la zucca in sé. Tant'è vero che in alcune ricette la zucca non viene proprio neanche menzionata tra gli ingredienti, perché effettivamente non c'è. Di solito, come si consiglia di fare comunque una birra alla zucca, a me se non concesso uno volesse utilizzarla? Una tecnica molto diffusa è quella comunque di tostare la zucca tagliata a dadini per una quarantina di minuti in forno, in modo tale che si asciughi e diventa croccante, una sorta di malazione sotto certi punti di vista. E poi deve utilizzarla addirittura in mesh. Il casino però è che comunque sporca parecchio, quindi è consigliabile comunque utilizzare una sacca biab o comunque un filtro, un filtro molto, cioè una sacca da filtro, per contenere tutte quante le zucche. Perché ricordiamolo comunque, la zucca non apporterà né particolari zuccheri né particolari sapori. Quello che porteranno sapori, molto probabilmente, cioè molto probabilmente, sicuramente sono le spezie utilizzate. Per esempio, le torte alla zucca, le americane, fanno molto uso di chiaro di picarofano, zenzero e altre, cannella e tutte altre spezie e così, che comunque possono essere utilizzate in fermentazione. Quindi, ovviamente non esageriamo, perché i rischi è poi quello di avere praticamente una cosa impevibile. Perché ricordiamo comunque, le pumpkin beer hanno come base una semplice pelleil, pure per quanto riguarda la lopulatura, non hanno chissà quale complessità, devono essere più, devono vertere più verso lo speziato. Quindi comunque un profilo neutro per quanto riguarda la fermentazione e aggiunte di spezie a piacere. E la zucca, ripeto, non è proprio così fondamentale. Tra l'altro ci sono degli esempi italiani. Adesso mi viene in mente, al momento mi viene in mente soltanto la birra che fa, la fabalade, non mi pare, è una birra alla zucca. Però, sinceramente, non ho ancora avuto modo di assaggiarla. Io ne ho assaggiata una, di un birrificio vicino casa, che era importata direttamente dall'America. Molto probabilmente, io non ci ho sentito niente di particolare, molto probabilmente perché sarà stata bollita dal viaggio, chissà che altro, cioè comunque immagino che attraversare i continenti via mare ha degli effetti molto collaterali per quanto riguarda le birre craft. Ok ragazzi, io credo di oggi avervi dato, spero di avervi dato anche dei spunti di riflessione, visto che si avvicina Halloween, la puntata di Halloween, lo speciale di Halloween, insomma, Simpsons insegna, fa sempre comodo, spero di non avervi fatto paura. Ci sentiamo, condividete questa puntata con i vostri amici, perché questo podcast ha bisogno di voi, ha bisogno di sentire anche la vostra voce, perché come dico sempre, questo non è un monologo, ma è un dialogo. Ok ragazzi, se voi avete fatto una vamping beer, fatemelo sapere, casomai parliamone. Ciao ciao, buona giornata!